Siamo pronti per incominciare ancora una volta assieme attraverso la lettura dei quotidiani andremo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali dove tiene banco tra accuse e veleni il caso Consip parleremo anche dei riflessi dopo un nuovo attentato a Londra mentre per quanto ci riguarda per la nostra regione dei giornali locali andremo a ripercorrere la sentita cerimonia di inaugurazione della scuola di Sarnano e poi altre notizie legate anche alla popolare di Vicenza prima di tutto uno sguardo al meteo al fine settimana allora andiamo a vedere che tempo farà sulla nostra regione è migliorato rispetto alle previsioni dei giorni scorsi dopo le piogge della notte in giornata ci saranno ancora probabili piogge sparse anche abbondanti sul Lisontino, sul Carso e a Trieste cielo variabile invece con minore probabilità di pioggia in Carnia e sulle zone occidentali sulla costa vento da sud moderato le temperature in pianura le minime andranno dai 12 ai 15 gradi le massime dai 19 ai 22 sulla costa le minime varieranno dai 17 ai 19 le massime dai 20 ai 22 12 gradi e millimetri 6 ai 2000 andiamo anche a dare un rapido sguardo al traffico la situazione sulla viabilità lungo la rete autostradale della regione al momento non si segnalano situazioni di traffico o rallentamenti da tenere attenzione sempre naturalmente al tratto tra San Giorgio e Portogruaro interessato dai lavori della terza corsia queste dunque le informazioni sul traffico andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dalla Corriere della Sera il titolo di apertura è dedicato alla PD all'attacco su Consip e versione il PM Woodcock indagato per falso un caso le critiche del capitano ultimo a giudici e ministri l'inchiesta e le pressioni anti Renzi l'ex premier risponde il fango gli si ritorcerà contro chi ha tradito deve pagare a centro pagina la fotonotizia che appunto ha reso emblematico il nuovo attacco alla metropolitana di Londra bomba nel metro di Londra la polizia atto terroristico le notizie di spalla del Corriere parlano di politica delle nuove regole dei 5 stelle Grillo non sarà più leader il candidato a Palazzo Chigi diventa il capo politico facciamo il Corriere andiamo a dare uno sguardo a Repubblica anche in questo caso si parla di Consip la lettura che ne dà il quotidiano vede Renzi creato solo per colpirmi la PM Musti sui carabinieri Scafarto e ultimo dei Matti il PD intervenga il governo dalla prima pagina di Repubblica si parla anche di esteri delle prossime elezioni in Germania Angela la donna che divora gli avversari il rischio della solitudine si parla dunque delle prossime elezioni in Germania da Repubblica ci trasferiamo sulla stampa in questo caso si cambia argomento si parla della manovra che arriva a 18 miliardi previsti più fondi contro la povertà e nuova rottamazione dei debiti fiscali Consip e Renzi volevano colpire me il capitano ultimo nessun golpe sempre sulla manovra la stampa spiega la strada per votare a marzo il Colle vuole un decreto per evitare ricorsi sulla legge elettorale ma il PD teme imboscate a centro pagina la stampa parla anche di Mariuana e di una risulta rivolta delle regioni Emiliano il governatore della Puglia pronti a produrre quella terapeutica altri governatori disposti a seguirlo questa è dunque la fotonotizia centro pagina sulla stampa andiamo a vedere i quotidiani come il fatto quotidiano considerano i riflessi della vicenda Consip in questo caso si legge si inventano un golpe per insabbiare Consip Renzi i suoi ministri gridano la congiura dell'arma dei carabinieri il procuratore di Modena Musti racconta al CSM le conversazioni con il colonnello De Caprio il maggiore scafarto dei carabinieri del Noe per avvalorare la tesi che l'inchiesta fosse un complotto contro l'ex premier ma nella ricostruzione molti punti non tornano a centro pagina la politica primaria per il premier 5 stelle chi vince si prende il movimento le regole il candidato diventerà capo politico indagati ammessi caso per caso diciamo il fatto e andiamo su libero anche in questo caso appunto si ritorna su Consip con una lettura particolare e uno scioglilingua nel titolo anzi la Lega al centro dell'attenzione legano la Lega per slegare il PD Salvini paga reati non commessi conti del partito prosciugati con un blitz dei giudici che contestano l'uso di 500 mila euro ma bloccano 49 milioni magistrati scatenati contro i rivali della sinistra che con Renzi esulta il leader del Carroccio che parla a libero mi sento derubato dei fascio comunisti a centro pagina c'è la Meloni la leader di Fratelli d'Italia che non può più essere patriota al massimo matriota il video della presidente di Fratelli d'Italia è oscurato perché Facebook ritiene troppo di destra dire che l'amore per la propria nazione è un valore la prima pagina di Libero andiamo su la verità quotidiano diretto da Belpietro Renzi si inventa il colpo di stato la pubblicazione dei verbali dei carabinieri indagati scatena gli amici del segretario siamo alle versione ma il polverore nasconde la vera domanda quale quella cerca la responsabilità di Lotti e dei generali sul caso Consip e poi c'è anche il ritorno a centropagina di Romano Prodi il professor Mortadella Tifa per lo Ius Soli andiamo a leggere anche il titolo di apertura del giornale Renzi sa chi sono i mandanti del complotto l'ex premier contrattacca un assalto alle istituzioni ma Gentiloni lo sorpassa nei sondaggi dal giornale andiamo su avvenire e anche in questo caso cambia la scelta dell'apertura del quotidiano della CEI guerra più clima uguale fame dopo anni di calo torna a salire la denutrizione sono 815 milioni le persone senza cibo sufficiente a dispetto delle previsioni il dramma si accentua nuovamente colpito l'11% della popolazione i casi critici in Sud Sudan e in Yemen andiamo anche sul manifesto si ritorna a parlare di Consip con un titolo secco non è una barzelletta la spiegazione Renziani contro Carabinieri il segretario del PD rilancia le accuse della PM di Modena contro gli ufficiali del NOE che volevano far scoppiare la bomba indagano su di lui e i suoi affondano con interrogazioni e grida di golpe il capitano ultimo risponde con una proclama antipolitica ci rimane da dare uno sguardo al sole 24 ore i temi economici in primo piano la notizia arriva la sanatoria bis anche sulle cartelle 2017 rottamazione per i primi 4 mesi si punta a 1,5 miliardi il governo vicino alla riapertura le nuove entrate per finanziare le assunzioni dei giovani centro pagina la fotonotizia dedicata all'attacco a Londra l'Europa fa i conti con uno stato di emergenza permanente e dalle pagine interne del sole 24 ore vi segnaliamo anche una lettera aperta dal gruppo Pittine gruppo di Osoppo indirizzata alla presidente della Repubblica Mattarella signora presidente leggiamo in questa lettera appunto sul sole 24 ore con riferimento alla decisione dell'antitrust di combinare una serie di pesantissime sanzioni alla nostra impresa e a tutte le aziende del settore produttrici di tondo per cemento armato e rete per edilizia in Italia ipotizzando appunto la situazione il cartello per il controllo dei prezzi del prodotto si legge nella lettera firmata dal gruppo Pittini chi le scrive appunto chiede di intervenire per mettere appunto una frena a questa situazione una situazione molto pesante la nostra impresa scrive ancora il gruppo Pittini utilizzerà tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento per ricorrere contro questa ingiusta decisione e possono le aziende italiane operanti sui mercati senza avere commesso alcuna infrazione vivere nel rischio che un'ingiustizia possa riproporsi a chiederlo al presidente della repubblica lo vedete a fondo pagina Federico Pittini presidente delle feriere nord una situazione dunque che ritornerà a far discutere lasciamo le pagine dei quotidiani nazionali andiamo su quelle locali partendo dal messaggero veneto vi anticipavamo che i temi legati alla popolare di Vicenza alle popolari venete ritornano ad attualità perché c'è una nuova stangata per popolare Vicenza regole violate la BCE infligge una multa da 11,2 milioni di euro andremo poi ad approfondire a centro pagina invece la fotonotizia la solidarietà targata a Friuli inaugurato l'asilo di Sarnano vedete la presidente della regione Serracchiani con i bambini del paese della provincia di Macerata che ieri appunto hanno ritrovato la loro scuola realizzata grazie a Friuli una serie di notizie di cronaca di spalla nel messaggero aiuto il ledra sta distruggendo la mia casa la situazione denunciata in via Cotonificio e poi l'orso che ha attraversato secondo il messaggero a nuoto il lago di Cavazzo infine la tragedia a Moggio nel tardo pomeriggio di ieri scivola durante un'escursione muore a 46 anni queste dunque le notizie prima sul messaggero andiamo ad approfondirle con le pagine interne dedicate a Sarnano alla ricostruzione il Friuli a Sarnano esempio per l'Italia il premier Gentiloni inaugurato nelle Marche la scuola realizzata dal Friuli Venezia Giulia Serracchiani restituiamo quanto abbiamo ricevuto nel 1976 allora a proposito del premier Gentiloni andiamo ad ascoltare proprio le sue dichiarazioni ieri a Sarnano una scuola all'avanguardia una scuola in cui penso i bambini di Sarnano potranno crescere con un'ottima qualità della vita bisogna ringraziare tutti certamente sono straordinariamente importanti le risorse che mettiamo a disposizione il governo il Parlamento è importante come ci organizziamo per la ricostruzione ma è altrettanto importante lo spirito di comunità la capacità di reazione delle comunità la voglia di restare e di migliorare la vita in questi nostri centri senza questo è difficile immaginare che le risorse per quanto ingenti l'impegno pubblico per quanto solerte possa risolvere le questioni l'esempio del Friuli Venezia Giulia è stato un esempio positivo di una terra che ha subito un terremoto violentissimo e che gradualmente con i tempi giusti ha raddrizzato la schiena ma siamo anche assolutamente convinti che quando questa Italia dei campanili si stringe collabora quando i campanili si abbracciano tra loro quando dal Friuli si viene qualcuno addirittura in bicicletta a lavorare per costruire una meravigliosa scuola a Sarnano questo è l'esempio di un'Italia che funziona e che traduce la propria particolarità in straordinarie a forza queste dunque le parole del premier Gentiloni ieri durante la cerimonia per il taglio del nastro cerimonia che il messaggero ha seguito anche con queste foto vedete il premier con il presidente della regione Marche il nuovo commissario per la ricostruzione la presidente Seracchiani sulli della protezione civile il sindaco di Sarnano i protagonisti e naturalmente anche i bambini con questa bellissima t-shirt Sarnano ringrazia il popolo friulano erano davvero contenti i bimbi per la loro nuova scuola e ancora si parla dell'inaugurazione un mare di solidarietà per questo progetto così si vince così vince il bene ovazione per la protezione civile protagonista dell'impresa Panuntin Orgoglio e Rammarico devono copiarci meglio ci sono anche alcune curiosità raccolte da Antonio Simeoli inviato sul posto un'opera virtuosa con un maxi rimborso previsto dalla GSE il gestore dei servizi energetici e poi il sindaco di Sarnano che si è lasciato anche alla commozione impegno e passione un evento epocale l'ha definito il primo cittadino anche la presidente Serracchiani anche lei commossa il selfie per la presidente semi ricandido alla domanda del giornalista la risposta è una giornata emozionante la presidente dunque che mantiene il silenzio sul suo futuro continuiamo a dare uno sguardo al messaggero perché si parla ancora di questo evento e si fa un parallelismo con quello della Friuli del 1976 ricostruzione quella concretezza che ci rende speciali l'abbraccio agli amici di Sarnano siamo così friulani a scriverlo Paolo Mosanghini in un fondo con queste foto che ritornano anche dagli archivi a presentare com'era il Friuli dopo la scossa del 1976 facciamo i temi dedicati al terremoto a Sarnano continuiamo a sfogliare le pagine interne del messaggero Veneto e c'è la politica con Grillo in novembre a Udi nell'annuncio il ritorno del comico non il politico l'unica tappa del suo nuovo spettacolo fake è prevista domenica 26 in teatro affronterà i temi più caldi a partire dalle false notizie biglietti da 22 a 44 euro e c'è anche un boxino che ripercorre gli appuntamenti precedenti l'ultima volta in Friuli al Carnera per il San Silvestro del 2010 a proposito di politica si discute in tutta Italia e anche in regione sul scatto dei vitalizi per i nuovi parlamentari e il muro dei 4 anni 6 mesi un giorno con le immagini dei vari onorevoli deputati e senatori friulani scatta il diritto alla pensione traguardo per 12 onorevoli in Friuli Venezia Giulia parlamentari al primo mandato a 65 anni potranno incassare 1000 euro al mese Sonnego Brandolini e Savino sommeranno anche l'assegno maturato in regione continuiamo a scorrere le pagine interne ritornano all'attualità i temi legati ai vaccini con le risposte alle polemiche dei giorni scorsi sulle vaccinazioni dei bimbi non c'è violazione di privacy il ministero della salute dà ragione alla Friuli Venezia Giulia respinto l'esposto degli antivax è legittimo che le scuole trasmettano alle aziende sanitarie i dati sensibili questa dunque è la posizione del ministero andiamo ancora tra le pagine interne del quotidiano per parlare di economia al titolo di apertura la multa della BCE da 11,2 milioni per popolare di Vicenza la sanzione leggiamo che era stata decisa a maggio prima del crack rientrerà nei debiti però della Bad Bank sorta dal fallimento e questa è dunque la notizia la vigilanza che ha sanzionato la popolare di Vicenza andiamo invece a vedere cosa accade in città a Udine l'avevamo visto dalla prima questa storia che parla di una abitazione messa appunto in difficoltà dal Ledra il grido d'allarme del proprietario di una casa di via del cotonificio dove terreno e muretto sono stati inghiottiti dall'acqua vedete anche le immagini che mostrano appunto quanto è accaduto in questa abitazione che nei giorni scorsi ha visto anche l'intervento dei vigili del fuoco dai temi interni in provincia all'economia con gli ultimi dati di Confindustria Udine Traina l'export si rafforza la domanda estera soprattutto quella di Germania Austria e Stati Uniti andiamo a vedere anche i grafici proposti dall'esportazione in provincia di Udine a gennaio a giugno vedete appunto le performance migliori le fanno la metallurgia naturalmente i macchinari i mobili il legno arredo questi dunque i grafici sono state rappresentate anche le percentuali bene siderurgia metallurgia prodotti chimici smaltimento rifiuti e recupero di materiali ci sono però anche situazioni di crisi che persistono ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi c'è uno spiraglio alla Bob Martin vittima della Brexit incontro ieri in regione tra proprietà Bolzonello e Panariti a Santo Svaldo l'attività sospesa oltre 70 posti a rischio andiamo avanti nelle letture delle pagine interne del messaggero si parla di università fondi la regione riduce il buco creato dal ministero la giunta ha deciso ieri distanziare 300 mila euro per l'Ateneo Friulano non risolve il problema mette un piccolo argine abbiamo risorse limitate andiamo anche alla politica cittadina iniziano a scaldarsi un po' gli animi verso la selezione dei candidati per le prossime comunali ebbene c'è un'apertura di blasoni a Bertossi solo uniti si vince il vice coordinatore di Forza Italia punta ad allargare la coalizione di centrodestra sceglieremo il candidato più forte con il coinvolgimento di tutti e naturalmente si esprime Blasoni a livello personale stimo Bertossi la porta è aperta anche per lui in questa fase produrremo il massimo sforzo per ampliare il consenso se questa è la situazione che si vive nel centrodestra nel centrosinistra pareva definita ufficiale la scelta per Vincenzo Martínez e invece il vice sindaco Giacomello riapre un po' i giochi di Martínez si parla da anni ma non so se è già tutto deciso pur riconoscendo che il candidato migliore preferisce lasciare l'ultima parola all'assemblea e vedete anche c'è la festa democratica in corso a Santo Svaldo ha parlato il sindaco Onsel Vincenzo ottima scelta però non è l'unica il sindaco ha aperto la due giorni di incontri a Santo Svaldo ci sono anche Venanzi e Giacomello e vedete la foto dell'assemblea di ieri sera del PD andiamo avanti nella pagina interna del messaggero per parlare anche di cronaca e dell'orso un titolo che ci aveva incuriosito l'orso a nuoto nel lago di Cavazzo arrivi in Carnia Elisio questo l'antigrado in questione ha lasciato Verzenis è in Slovenia ha segnalazioni anche a Forgaria e Preone vedete la mappa che presenta le zone frequentate da Francesco quelle in rosso quelle in blu invece quelle di Eliseo e poi la presenza di altri orsi in zona è segnalata sia nel Tarvisiano che in comune di Venzone e nelle valli del Torre e del Natisone una storia dunque che continua ad incuriosire quella della presenza degli orsi in Friuli Venezia Giulia andiamo sulla cronaca in montagna scivola sul sentiero e muore a 46 anni Gianni Franzi impiegato la cartiera Ermolli era salito a Stavoli in comune di Moggio Udinese dove aveva una proprietà fatale per lui un volo di 20 metri si continua anche a parlare dell'esercitazione in corso a Venzone dopo scosse e crolli tutti insieme al lavoro con strumenti high tech ieri il consuntivo di giorni di prove e simulazioni realistiche gli organizzatori in modello Friuli si aggiorna e rimane efficace vedete la foto di gruppo con protezione civile vigili del fuoco università personale di Slovenia e Austria questa dunque la situazione andiamo a dare uno sguardo anche al gazzettino il titolo di apertura Consip e Lega bufera sui giudici si mettono in relazione le due vicende da un lato Woodcock indagato per falso prove costruite la PD un complotto Rezzi adesso paghino Salvini le solite toghe rosse la procura nessun attentato alla costituzione la NM basta illusioni a centropagina si parla anche di arte con un regalo per il lettore poi a Pordenone cinesi massacrate con l'accetta la corte conferma i 20 anni questa è la notizia di cronaca sul gazzettino andiamo nelle pagine interne l'apertura del dorso regionale parla di neonati la prova salva vita oltre 12.000 bambini sottoposti a screening scoperti 21 casi che richiedono cure l'istituto Burlo Garofalo di Trieste pubblica il primo rapporto sugli esami dopo la nascita ci sono anche i soldi per ricostruire il glorioso sentiero degli alpini regole per attribuire le stelle agli alberghi diffusi prorogati invece gli sconti benzina anche sul gazzettino si racconta della ricostruzione targata Friuli a Sarnano e si riparla però anche dello sciopero in programma a Udine per i vigili urbani fumata nera vigili in sciopero salta l'incontro non c'è l'intesa Cisa le UGL confermano la protesta di tutta la giornata per domani in concomitanza però con la maratonina ci aspettiamo un'alta adesione dicono i sindacati fino all'80% vedremo dunque se queste previsioni saranno rispettate andiamo anche a vedere le notizie di cronaca per quanto riguarda Pordenone città l'apertura scelta dal gazzettino vede l'appello del vescovo che chiama i separati sono parte della chiesa la famiglia e la sua crisi finiscono al centro della visita pastorale in 188 parrocchie non sono scomunicati bisogna pensare anche ai loro figli il ritrovo a Fatima continuando si ritorna anche a parlare di un caso di cronaca giudiziaria che ha tenuto banco e che vi abbiamo raccontato puntualmente quello del processo di Trifone Ragone e Teresa Costanza ieri ci si è ritrovati dopo la pausa estiva in Tribunale a Udine ebbene foto di Rosario nel cellulare di Trifone scoperto il suo numero memorizzato come Giosuè Trimone PM si affida ad uno psicologo per rafforzare il movente scontro sulle memorie depositate a poche ore dall'udienza il test e il mistero dei graffi Ragone non si ferina ad estramento ma gli doleva la spalla a parlare appunto il maggiore Salvatore Carta istruttore di combattimento militare della riete chiamato appunto in aula e poi le consulenze pulizioni computer tutto recuperato il messaggio di richiesta di perdono non era per Teresa è un refuso scrive il gazzettino diciamo le pagine interne del gazzettino di Pordenone andiamo a dare uno sguardo al messaggero di Pordenone e in questo caso si parla prima di tutto di Pordenone legge la festa del libro che continua spazi insufficienti ne arrivano di nuovi oggi apre piazzetta Ottoboni per il 2018 si pensa ad una ulteriore espansione ecco gli autori che hanno fatto il pienone ci sono anche le pagelle per quanto riguarda queste giornate che continuano con tanti protagonisti andiamo per esempio a vederne alcuni di quelli che hanno parlato ai loro lettori il Nobel Vol Soinka oggi ritirerà il premio Friuladri all'Europa ripari i torti delle colonizzazioni questo il suo appello facciamo Pordenone legge dicevamo del processo ripreso e anche il messaggero di Pordenone ne parla nel telefono di Trifone le foto e il numero di Rosaria il PM rivela la fidanzata di Giosuè era registrata con un altro nome e un epiteto in barese scoperte immagini datate del settembre 2014 fino a 5 giorni prima del delitto c'è anche la notizia l'ITV ha sms fra Aragone e Ruoto il consulente Trifone rappresentava quello che lui non è e non poteva essere ora il giallo delle lesioni Trifone aveva già male alla spalla ne abbiamo appunto parlato poco fa la difesa che si esprime dati fatti sparire no questa la risposta aggiornamenti di sistema il PM perché la pulizia dei file proprio nei giorni in cui fu rinvenuta la pistola l'avvocato esposito risponde fossero stati compromettenti non avrebbero atteso sei mesi lasciamo il messaggero andiamo sul piccolo di Trieste si ritorna a parlare di politica regionale con un'analisi interessante a seguito del blocco dei conti della Lega anche in Friuli Venezia Giulia assorgono problemi confisca dopo la condanna Bossi per le regionali 2018 in salita la corsa di Fedriga scrive il piccolo che poi nella sua foto centrale sceglie di raccontare il panico sulla metro di Londra andiamo a vedere dunque come si analizza questa questione legata alla Lega e i suoi conti conti bloccati la Lega al voto senza soldi si allarga l'effetto della sentenza di primo grado contro Bossi e Belsito una problema in più per Fedriga già le prese con personalismi e campanili c'è anche la dichiarazione di Salvini che fa ricorso attacca le toghe rosse il segretario parla di atta politico l'ANM in situazioni inaccettabili Renzi smettano di rubare ma tornando alle questioni di casa nostra c'è anche una retroscena il grande feeling tra Max e l'outsider l'imprenditore Bini cerca sponda con il parlamentare che apre al civismo in cerca di consenso tra i moderati e proprio Bini sarà protagonista di una conferenza stampa quest'oggi che racconterà appunto i prossimi sviluppi del suo movimento dalla piccola andiamo a dare uno sguardo anche alle notizie di Gorizia e Monfalcone per quanto riguarda il capoluogo Isontino si parla di giovani e boom di partite IVA eccola qua la l'articolo dopo nove anni di segni meno riemerge lo spirito imprenditoriale Zotter tanti nuovi bar gestiti da trentenni Medeot serve più credito e l'analisi dedicata appunto alla città di Gorizia su Monfalcone invece l'apertura del dorso interno del piccolo parla di sanità cercano un pediatra ancora 26 bambini dei 70 utenti rimasti senza copertura ne sono stati assegnati 44 tra la città e Staranzano 4 i medici per 4167 assistiti abbiamo concluso dunque il nostro viaggio tra le pagine dei quotidiani nazionali e locali ci fermiamo per la pubblicità ma poi rimanete con noi c'è lo sport per la pubblicità per la pubblicità di San Francisco